Non è anche il Vardanzò. Come farebbe se ti a vivere con una pensione di... No, dimetti la cifra perché che massa veri? 59 puliti. 559 euro puliti nel Trentino Dorato dove stiamo tutti bene, dove siamo felici e contenti. Allora mi ti dico che conosco una ragazza, eh? Conosco una ragazza etiope, perché siccome tu pensa che il primone è raffista. Conosco una ragazza etiope che lavora qua nei palazzi da fare polizie. Siccome per vivere che tocca fare due part-time, no? Che tocca fare 7.30, la can part-time da 660 euro, l'altro da 600. Desti due, in ottobre uno è che l'ha zerato con 7.30, che resta 600 euro. Ah, così. E che l'ho fatto volte all'anno. Siccome la guadagna massa, la fa 12.000 euro all'anno, 3.000 bisogna che l'entona. E in una casa popolare la vive con 500 euro di affidio a pagarsi. Ma siccome siamo una regione ricca, uno l'altro dì, no? Del famoso progettone della provincia, i stagionali, che ha 54 anni, le vengono per domandarmi, per piacersi che dà un euro, perché da gennaio non c'ha stipendio. Perché i stagionali, da gennaio, i campi non c'ha fare stipendio nel progettone. E le è veniva una domanda in euro, perché quel mona del farmacista, che mancava in euro, non c'ha dato le medicine, mica le aveva regalate. Però ha dato i soldi da andare a comprare le medicine per la sua sposa. Questo l'è il Trentino. Questo l'è. Allora, gli affortunati, questi personaggi che ancora, tutta la mobilità, tutti i cassi integrati, tutti i pensionati che è lì, che non sa come arrivare alla fine del mese, noi qua sotto, non con le parole, ma col picco e il badil, col picco e il badil, perché non so mica soluzioni che abbiamo, cosa che abbiamo da dire questi qua dentro. Secondo te, sai che di gente? Dimmi una parola, ma non una parolaccia, perché non potete. Col mio tre di un cancavarli fuori. No, no parolacce. No, no parolacce. No, no. La scalogna, la scalogna e la fortuna l'euro, la fortuna l'euro è che non aveva neanche una certa politica da fare, perché gli è tutti d'accordo. Se che fosse dentro uno che fa l'opposizione, fa una rivoluzione, deve venire fuori, deve venire qua, uno che la pensa come noi. E deve venire fuori e scominciare a sticare anche io. Da soli, noi che abbiamo una mano. Uno basta che venire fuori. Bert, Ross, Già, Arancione, non me ne frega niente, che colore che è il gabbia. Basta che venire fuori. Máfia!